Sindaco, un commento su questa importante commemorazione che si celebra oggi qui a Montevarchi a Levane? Ogni anno non possiamo mancare come amministrazione comunale per il giorno del ricordo, un giorno importante perché ancora di strada c'è da fare per ricordare non solo le nuove generazioni, quindi ai nostri figli attraverso il mondo della scuola che è sicuramente una delle strade migliori per raccontare questa tremenda storia di un popolo che è stato sterminato, però credo ci sia molta strada da fare anche all'interno delle nostre generazioni, ancora oggi poco si parla e si pone omaggio a tutte le vittime di questa tragedia e questo è un momento importante dove le istituzioni insieme a tutte le associazioni che ringrazio, insieme alle forze dell'ordine, insieme a tutte le associazioni anche che ricordano questa tragedia, ogni anno si sia qua per cercare di dare un peso ancora maggiore a un evento storico e dobbiamo ricordare perché non accada più. E' stato anche molto commovente il discorso di Ausilio e di Don Angelo, come fare affinché questi fatti non si ripetano più, cosa insegnare, cosa raccontare alle nuove generazioni? Io credo che servano proprio eventi come questi, non di circostanza ma con persone che per varie motivazioni esprimono non solo a parole ma anche con le loro emozioni l'importanza di questo giorno del ricordo perché solo così si può veramente toccare il cuore delle nuove generazioni e far comprendere il dolore di chi purtroppo ha perso la vita a causa di queste tragedie e di quanto sia fondamentale portare avanti un pensiero di democrazia e di pace.